Via Rossi, Via Lanza e Via Giolitti, tre vie logisticamente vicine che presentano diverse problematiche di viabilità. Ci troviamo nel quartiere di Pantano e l'incrocio tra Via Rossi e Via Bixio, regolato dal semaforo, presenta alcune difficoltà che quotidianamente ciclisti e motociclisti devono affrontare. Questo qui è una cosa che da molto tempo è stata già segnalata nei giornali, dal 2018-2019 via, che sotto il ponte della ferrovia sono state delle rotture, poi è stato riparato, ma dove in alcune parti l'asfalto è più alto del normale, dove con le biciclette di là di qua devono cercare di schivare le moto lo stesso, quindi cosa si aspetta di sistemarla? Non sanno che Pantano è il quartiere più poloso di Pesaro, dove transita molte macchine, dove transita molte biciclette, c'è una sola pista ciclabile a Pantano per uscire dalla città, per entrare no, e quella lì, anche quella lì, è tutta mezza rotta intorno alle caditoie, dove è passato le fibre e quanto si aspetta di sistemarla? Quel tratto di asfalto che è stato rotto nella pista ciclabile, quella fascia larga 10-20 cm, non è stata riparata come andava riparata, addirittura in alcune parti ancora è come l'hanno rotta, non hanno riparato niente, non hanno riparato. Va detto che in questa via passano molti dirigenti comunali, quindi vedranno che anche loro con le biciclette dovranno schivare le caditoie e tutte queste cose qui. Quindi è ora di far basta, è ora di tenere in ordine la città e non volare solo nelle tv o di là di qua. Pantano è un quartiere dove ci sono molti anziani, ci sono le case popolari che non vanno più in macchina, vanno solo con le biciclette e qua, a questi bisogna andare incontro e questi sono i poverazzi, non sono quelli che hanno le macchine lunghe 10 metri. Io mi auguro che nel giro di breve sta cosa venga sistemata. Problemi di viabilità e di segnaletica orizzontale invece per i pedoni lungo via Lanza, che una volta terminato il marciapiede per poter attraversare la strada e dunque raggiungere il proseguimento del camminamento, non trovano alcuna striscia pedonale. In via Rossi, lungo i marciapiedi che salgono o scendiamo nei marciapiedi, ci sono le strisce bianche per passare come si sente il marciapiede. Via Lanza è più frequentata dalla gente a piedi che via Rossi e ci sono ancora più macchine che in via Rossi. In via Lanza trova via Martini, via Salandra, Benetto Croce, via Minghetti, via Tombesi, tutte queste vie qui, senza che tu scendi dal marciapiede, ti trovi le righe pedonali che puoi andare dritto. Arrivano le macchine proprio lì e tu cosa fai? In più rischiano anche le macchine perché magari uno scende all'improvviso che va via dritto, può succedere tante cose. Costerà qualche centinaia di euro, qualche migliaia, però va sistemato. Cosa si aspetta? Solo di girare via. A parte che se uno vuole elencare le cose rovinate, c'è via Giulitti, tanto per fare una cosa. Il lato monte è tutto spaccato da quanto l'hanno asfaltato dieci anni fa. E un certo assessore che era quella volta dei lavori, cosa ha detto? Ha detto adesso mando il tecnico a vedere perché quella parte non è venuta bene, l'altra parte è liscia come il vetro. L'avete visto voi il tecnico? L'avete visto che ha messo a posto? No, è tutta spaccata. Con le biciclette bisogna fare proprio la cingana per passare in via Giulitti sulla parte monte della parte della farmacia.